Sì, non capisco, non capisco. Non l'altro, non l'altro, non l'altro. No, 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 no Buongiorno a tutti Sì, qua c'è la telecamera La smia, la smia fibre L'ho tolto pure il calcello No, è qua avanti L'ho tolto, il calcello principale era il mio papà e l'ho fatto qua Lo so, mio papà entrava da qua quando andava al lavoro E' il mio papà entrava da qua Il mio papà entrava da qua Grazie a tutti.